Salve a tutti e benvenuti all'undicesimo episodio di Victoria 2 con l'Italia. Nello scorso episodio ci siamo dedicati alla conquista dell'Africa italiana e devo partire da un commento di un utente, la montagna, che mi ha fatto notare che effettivamente potevo conquistare anche l'Asia. Vi dirò la verità, io non ce l'ho pensato. E quindi l'Indonesia è finita nelle mani dell'Olanda, del Giappone, che parte col Regno Unito. Non l'avevo considerato perché mi ero prefissato soprattutto sull'Africa, e quindi l'idea di conquistare anche le colonie qui in Asia mi era totalmente passato di mente, mi chiedo scusa onestamente. Effettivamente si poteva prendere qualche territorio qui. Vabbè, come vedete si impara sbagliando soprattutto. Vi dirò la verità, si va anche per abitudini in un certo senso su Victoria 2 e questa volta si rivela un errore come in questo caso perché alla fine siamo finiti per perdere i territori che potevamo ottenere perché semplicemente non ho guardato l'Asia. Detto ciò, l'Asia probabilmente la cercheremo di conquistare strappando dall'Olanda anche perché, tipo, vediamo con chi è alleata all'Olanda. Ah, ciao, buone. Benissimo, è alleata con il Regno Unito. Come faremo quindi a prenderci l'Asia? Non ne ho idea. Sarà un po' complicato. Effettivamente questa potevamo pensarla prima. Vabbè, ormai è andata. Questo vuol dire che quando farete voi magari una partita Victoria 2 ricordatevi di colonizzare anche l'Asia. Detto ciò, noi qui abbiamo un sacco di uomini tutti reclutati da noi. Possiamo reclutarne altri, sì. Reclutiamo un'artiglieria qui in Italia, un po' di fanterina in Africa. Come stanno andando le industrie? Ma le industrie stanno andando bene. Purtroppo in Savoia non stanno andando. Nonostante ci sia il bonus carbone, è molto bassa la produzione. Appena 1500 operai. L'unica cosa buona è che il mercato è positivo. La fabbrica di Canel Food in Puglia non sta andando bene. Invece quella di munizioni, sì. Nonostante in Puglia non ci sia nello zolfo, nel ferro. Spandiamo qualche fabbrica qui in Lazio, dove sono al limite. Ecco, per esempio, qui la macchina della Machine Parts stranamente non va molto. E addirittura è negativo. Spende troppo nel mercato, però vedo che comunque è un buon budget positivo. Forse è solo un problema momentaneo. Un'altra fabbrica che non va bene è anche questa. Può essere che queste non vendono, perché serve una fabbrica che usi le Machine Parts Factory. Mi sembra l'unico settore dove le fabbriche vanno male. Vediamo di promuovere qui questa Pepper Mill in Tirolo. Voglio vedere se questa dà un output positivo. Cosa servirebbe costruire una fabbrica che richieda come input le Machine Parts? Forse è una tecnologia un po' avanzata in realtà, perché noi al momento non abbiamo nulla di questo tipo. Nessuna fabbrica richiede le Machine Parts. Cioè le richiedono solo quando viene costruita. Quindi non abbiamo ancora sbloccato le fabbriche di, che so, bricari armati o cose del genere, o aeroplani. Quelle effettivamente è un po' presto. O il limite dobbiamo sbloccare le noi con le tecnologie. Tipo questa. Questa per esempio può sbloccare Oil Pump It Machinery. Ok, questa ci può aiutare volendo. Perché c'è sia le fabbriche di elettricità che quelle per il pompaggio dell'olio. Anche se ho il dubbio che forse non potevano neanche arrivarci in Asia, ora che ci penso. Perché questo è il limite massimo di colonizzazione, mi sa. Quindi non potevano neanche arrivarci volendo. Perché sono le linee tratteggiate in blu che determinano la provincia più lontana in cui possiamo costruire una colonia. Tutte queste colonie qui in Centroafrica le abbiamo fatte perché avevamo un territorio decente. O qui, o qui. Abbiamo una tregua che durerà ancora un annetto e mezzo con l'impero austriaco. Fammi vedere quei ribelli come sono messi. Il soffraggio universale è ancora deboluccio. Solo 157.000 persone. Non è molto. Abbiamo un sacco di socialisti, devo dire. È una nazione che si sta spostando velocemente a sinistra. Mi approfitto di questa tregua per migliorare le relazioni con l'Egitto. Come sta andando qui la... Ah, la Francia ha dichiato guerra di nuovo alla Svezia per riottenere la Norvegia. Non è una grande campagna per la Francia. Mi dispiace di non aver ottenuto territorio dei francesi. Allora, abbiamo finito Military Statistics. Gli spagnoli ci offrono un'alleanza. Considerando che gli spagnoli li abbiamo aggiunti nella nostra sfera, a noi ci va anche bene. Sarebbe carino avere le Filippine, ma ahimè non penso che in Asia riusciamo a fare granché. Facciamo, avevamo detto, semi-automatizzazione per sbloccare queste tre tecnologie. Bene. C'è la crisi in Northern Cape. Sia il Regno Unito e sia l'Italia vogliono a Northern Cape. Potremmo chiedere un'offerta per farci appoggiare delle grandi potenze in questa crisi diplomatica. E, ok, però... E questo è interessante. Cioè, noi concediamo qualcosa in cambio, però è un po' difficile. L'Olanda è un loro alleato. E la Russia non ha interesse ad appoggiarci. Anche perché gli abbiamo dichiarato guerra. La Germania invece entrerebbe con noi in questa crisi. In realtà sarebbe la Russia il problema. Ma vedo che la Russia non accetta... Non accetta granché. Vedo sempre che dice they will not accept. Andiamo a se gli cedo l'Alaska. Cosa dicono? No, non vogliono Place in the Sun. Proviamo a offrirgli la Romania. Non gli interessa. Proviamo a offrirgli... Cut down to sides potrebbe interessargli. Ma è troppo debole. Hanno una considerazione politica più alta verso il Regno Unito. Cioè, quello è il problema. Con umiglietti invece potrebbero entrare. C'è un bel più 50. Però non accetterebbe ora perché è troppo precoce. Vediamo, insomma. Non ho speranze. Qui intanto... Non mi caccia i russi dagli ottomani, va? Una guerra fra noi in Regno Unito per il Capo del Nato sarebbe clamoroso. Ok, la Germania ci ha appoggiato. E qui creiamo il protettorato di Hausaland, che è questo microstato. La Francia ci chiede dito di passaggio. Fa vedere. Guerra con la Svezia. Tra l'altro la Francia adesso è un'alleata anche della Russia. Aumentiamo ancora le relazioni con l'Egitto. Intanto. E l'Olanda ha appoggiato l'impero britannico. Vediamo adesso. Non accetterebbero. Le loro considerazioni politiche sono troppo basse. Probabilmente perché li abbiamo cacciati. Non è stata una grande idea. Infatti la Russia ha appoggiato il Regno Unito. Mi sa che ci tocca mobilitare un po' l'esercito, va? Ho capito l'andazzo. Il Belgio ci chiede un'alleanza. Vieni, vieni. Ci servi e come. Perché qui il Regno Unito temo sia per esplodere. Però non lo so se vale la pena dichiarare una guerra per il Capo del Nord. Contro Russia. Russia, Inglesi. E come immaginavo è scoppiata la guerra. L'unico lato positivo è che volendo potremmo prendere i territori dall'Olanda in Asia. Quei territori di cui dicevo prima. Quindi portiamo tutti gli uomini qua in Olanda. Le navi le poniamo subito a difendere lo stretto. Stretto di Suez e stretto di Gibraltar. Con questo dovremmo aver assicurato il Mediterraneo nelle nostre mani. Speriamo di essere abbastanza veloci. Lo dovrò fare prima effettivamente. E' servito in un certo senso avere il confine con i tedeschi diretto. Altro che. Allora cerchiamo di prendere tutti i territori olandesi prima di loro. E voglio cercare di aumentare velocemente il war goal per gli olandesi. Cioè il nostro war goal a favore degli olandesi. Abbiamo vinto la battaglia nello stretto di Gibraltar. Cinque punti guadagnati. Con questo il Mediterraneo è ufficialmente al sicuro. Chi l'avrebbe mai detto che avremmo sconfitto la flotta navale inglese. Eppure ci stiamo riuscendo. Vai copiamo qui altri territori. Una mano qui. Tedeschi. Ok qui abbiamo vinto una battaglia all'Euva... Non so pronunciare l'olandese. L'Euvarden. E che inventiamo? Vediamo un po'. Facciamo naval decision making. Rinforziamo la flotta navale italiana. Ok abbiamo vinto da Sen. Intanto. Questi hanno già occupato i tedeschi purtroppo. Anche questa. Ok i primi territori che stiamo occupando noi per primi. Questi li mandiamo al fronte in Russia. E sta già cedendo il fronte russo. In certo senso noi tedeschi ci siamo divisi un po' il fronte su cui combattere. Noi siamo andati tutti in Olanda. Loro stanno andando tutti in Russia. E vissero felici e contenti. Come siamo messi in guerra? Eh infatti siamo messi bene. Stiamo stravincendo per il momento. Transval ci chiede l'alleanza. Gli inglesi hanno già iniziato a chiederci la pace. Pensa come siamo messi. Ok caduto un altro territorio olandese. Abbiamo vinto una battaglia già qui eh? Ok sono già arrivati gli uomini italiani al fronte russo. Facciamo attenzione. Vinta la battaglia sul canale di Malta. Ah quella una singola nave abbiamo vinto. Portiamo anche questi 81.000 uomini. Questi 50.000 al fronte russo va. E loro continuano a chiederci la pace. Ma noi vogliamo solo una cosa. Vogliamo l'Indonesia italiana. O l'Indonesia o niente. Ma vediamo intanto quanto manca per il work call con gli olandesi. Eh 6.1. Ci vorrà un bel po' di tempo. Stiamo occupando così tanti territori che sto perdendo io la cognizione del tempo. Allora abbiamo sbloccato Cracking quindi adesso possiamo fare la benzina. Continuiamo a vincere battaglie in Russia come niente tra l'altro. È incredibile. Sto totalmente perdendo la cognizione di quello che sta accadendo qui in Russia. Qui stiamo perdendo la battaglia mi so. Andiamo a prendere Kiev. Abbiamo vinto anche qui ancora a Vinic. Qui a Kiev gli russi si sono fiondati in una guerra che per il momento è equilibrata. Ok. Abbiamo mandato dentro i nostri uomini. E la battaglia di Kiev l'abbiamo vinta. Allora ci sono un po' di nostri uomini qui che hanno bisogno di rinforzi. Mandiamo un po' di uomini in Moldavia. Questi sono qui al fronte a fare nulla. Vai. Abbiamo ancora un gingoismo in basso. Non è neanche il periodo elettorale quindi speravo di velocizzare il gingoismo. Ma vabbè. La Persia ci chiede un'alleanza. È sbloccato naval decision making. Che facciamo? Facciamo steel railroad va. Abbiamo bisogno di potenziare le nostre ferrovie. Andiamo a Cernigov che ci sono un po' tanti i russi al confine qua eh. Abbiamo vinto qui a Smolensk. Stiamo per vincere anche qua a Cercassi. Vai. Quattro punti e mezzo. Una guerra coloniale è diventata una tremenda potta. Ah vabbè però è solo la Grecia. Mi sa. L'ho rifiutata per sbaglio la guerra. Vabbè. Spero che gli ottomani se la cavino anche senza di me. Ah ma possiamo conquistare la capitale. È vero qui la capitale è ancora San Pietroburgo. E allora che aspettiamo? Ok non dovrebbe mancarci molto. Siamo a 680. Ok ma andiamo a conquistare anche la Crimea. Certo non è esattamente una parola felice da dire in questo periodo. 6 e 7 dai. Manca poco. Abbiamo vinto la battaglia di Mariupol. Mamma mia. Questi nomi detti oggi sembrano un po' strani. Ok. Andiamo a Rostov. Dai che stiamo per prendere San Pietroburgo. È infatti caduta la città, la capitale russa. Come Burghol siamo a 6.769. Ancora basso. Serve un altro po' di Burghol. Devo rifare la conquista di Azov. Sempre per la storia che questi nomi detti adesso sembrano molto strani. Ok. Siamo arrivati in Caucasus signori. Cioè qui Napoleone ci fa un baffo. Abbiamo preso la capitale russa. Probabilmente Mosca è stata conquistata. Se solo la trovassi in mezzo a tutto questo verde. No Mosca non è stata ancora conquistata. È questa provincia qui. Quindi prima di andiamo a prendere Mosca vai. Facciamo quella a cui Napoleone non è riuscito. Ma volendo a questo punto potremmo anche azzardarci a chiedere qualcosa di più dell'Indonesia. Magari anche una colonia in India. Già che ci siamo. È caduta anche Kirk. Questi li portiamo a nota perché i russi stanno liberando un po' l'Ucraina. Nel frattempo stanno tornando indietro. Ok. Abbiamo sbloccato le railroad. Quindi facciamo forse biologismo. Dai miglioriamo l'educazione. Anzi va. Vediamo di prendere un po' questi russi. Che stanno cercando di liberare i territori che abbiamo appena conquistato. Battaglia di Vladimir vinta. Ok. Siamo arrivati a conquistare anche la Georgia. Tutto ciò. Quanto è stata una buona idea a Kharkiv. Dai ditemi che posso aggiungere un war goal. 6-9-7-6. Dai. Oh finalmente possiamo aggiungere un war goal. Ora. Adesso che possiamo aggiungere un war goal e possiamo finalmente concentrarci in Asia. Quale provincia potremmo conquistare? British India. Noi siamo in guerra in British India. Questa la consiglia di un loro core. Vero? Prendere questi territori. Gli toglieremo tutta la produzione di coloranti. Guarda quanto ne producono. Ne producono più qui che in tutto il mondo. Questa che putta. Yesore. Ah no. Vedi. Questo è il sud Bengal. Il sud della cosa. Ok. Quindi potremmo prendere questa provincia. Per avere l'intero mercato della... L'intero insomma un parolone. Ma prenderci un... Anzi no. Gli prendiamo tutti i territori che producono i coloranti. Mi sa. Ok. Gli resta solo questo qui nel nord del Bengali. Qual era l'altra risorsa che volevo? Forse l'oppio. Eh ma l'oppio in India centrale. Vediamo qui nelle coste dell'Indonesia cosa c'è. C'è il tabacco. Il caffè. Vabbè legno tropicale ce l'abbiamo anche in Africa se ricordo bene. E c'è molto zolfo. Produco un sacco di zolfo. Potremmo avere la produzione mondiale di zolfo nelle nostre mani. Se non sbaglio. Sì. Perché oltre che in Sicilia e Sardegna la zolfo è prodotto largamente anche lì. Vabbè un po' in Germania, Belgio, Inghilterra. Ok. Quindi no. Adesso è una scemenza. Invece mi interessa molto di più prendere la provincia dei coloranti. Quindi io direi prendiamo il sud del Bengal. E se abbiamo ancora un po' di orgogli prendiamo dall'Olanda qualcosina. Vediamo un po' come siamo messi. Ah possiamo prendere un territorio. Beh allora lo facciamo subito. Ok. Questa non me l'aspettavo. Cioè possiamo prendere un territorio a testa. Da Russia, Olanda e Inghilterra. Ok. Dalla Russia cosa potremmo chiedere? Cosa hanno la Russia? In realtà nulla di che. Ma al massimo potremmo prendere la Crimea per il meme dell'Italia. Che una volta era in Crimea. Ma insomma. Vediamo un po'. Potremmo. Allora fa vedere quelle province. Qui abbiamo Java, Borneo, Nord Borneo, Sumatra, Aceh. Potremmo prendere Java per la produzione di zolfo a questo punto. Oltre che di caffè. Guarda quanto caffè producono. E per il tabacco vabbè pazienza. Anche perché il tabacco lo fanno più d'altri parti. Ok allora prendiamo Java dall'Olanda. E dalla Russia non lo so. La Russia la potremmo anche lasciare in pace in realtà. Anche perché abbiamo già 26,49 di infamia. Ci conviene dichiarare subito la pace. Ed ecco qui. Ok. Una guerra che non mi aspettavo devo dire. Possiamo investire a Zambezi. Intanto abbiamo ottenuto anche la nostra Italia-Africa qua a sud. Devo liberare subito Parma. Prima che mi succeda qualcosa. Vai. Parma e Trieste. Ok. Ne abbiamo abbassato l'infamia. Demobiliziamo l'esercito. Guarda. I nostri soldati erano arrivati addirittura a occupare il Caucaso. Siamo stati veramente bravi. Devo dire non me l'aspettavo questa espansione in Asia. Tutto nato per una crisi diplomatica. Questa è la cosa più divertente. Eh la Svezia invece le sta prendendo dalla Francia. Vabbè pazienza. La liberazione della West Macedonia la sta perdendo l'impero ottomano. Vabbè ma insomma lo sapevamo. Adesso anzi che la guerra è finita. Probabilmente l'impero... Ah gli inglesi sono in guerra anche con la Spagna. Pensa a te. Ah sempre per la guerra con gli ottomani. Vero perché la Spagna era alleata con gli ottomani. E vedremo come andrà a finire questa guerra. Va bene io direi che con questo è tutto. È stato un episodio divertente. Vi ringrazio per il vostro supporto e vi do appuntamento al prossimo video.